Il coronavirus ci costringe a rimanere in casa. Cosa si può fare durante questo tempo? Cominciamo! Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Leggiamo questo testo insieme. Nella vita frenetica di tutti i giorni quello che ci manca di più è proprio il tempo per noi stessi e i nostri cari. Se siete in casa con la famiglia o gli amici, sfruttate questo momento per viverli a pieno. E se siete da soli, nessun problema. Riprendetevi il vostro tempo in mano e dedicatelo alle cose che vi piacciono di più. Coccolatevi al massimo. E se avete degli amici a quattro zampe, ora che potete dedicargli più tempo, fatelo. Ne sarete felici entrambi. Leggiamo questo testo un'altra volta. Nella vita frenetica di tutti i giorni, quello che ci manca di più è proprio il tempo per noi stessi e i nostri cari. Se siete in casa con la famiglia o gli amici, sfruttate questo momento per viverli a pieno. E se siete da soli, nessun problema. Riprendetevi il vostro tempo in mano e dedicatelo alle cose che vi piacciono di più. Coccolatevi al massimo. E se avete degli amici a quattro zampe, ora che potete dedicarvi più tempo, fatelo. Ne sarete felici entrambi. Grazie. Sarekizare اليom maggiore nel nostro nostro, maggiore, il nostro, maggiore, e il nostro. E direno, il nostro, maggiore, il nostro. Treppure, il nostro, maggiore, le preposizioni articolati. Ricordo. Cometiamo. Okei. Nella vita frenetica di tutti i giorni, يعني في الحياة المزدحمة اليومية o di كل يوم o di كل الأيام di tutti i giorni di كل الأيام nella vita di tutti i giorni quello che ci manca di più الذي ينقصنا l'aكثر è proprio il tempo il tempo per noi stessi il tempo l'anfusina l'anfusina e i nostri cari e gli ahbebina se siete in casa con la famiglia o con gli amici sfruttate questo momento per viverli a pieno l'anfusina sfruttate questo momento sfruttare يعني istaghello il verbo sfruttare prima coniugazione come parlare poi con voi sfruttate sfruttate che cosa? sfruttate questo momento sfruttate questo tempo istaghello per viverli a pieno sfruttate sfruttate questo momento è un tempo che si è un tempo con la famiglia e con gli amici e noi siamo erano di più prima questa città città la corona e se siete da soli e se siete da soli la sol problema non c'è nessuno la sol problema reprendetevi il vostro tempo in mano a'idu a'gheb wakadkon baina a'idiko reprendetevi il verbo reprendersi reprendetevi la chavuz faracami reprendersi lema ykou l'infinito lema ykou l'fajal mosh m'sarraf ho ykou verbo reflexivo hne t'akudhu l'infusika ok fahna reprendetevi shuffo reprendersi ma che si tratta di riprendere ma che si tratta di riprendere riprendetevi mettetevi in un'ottocchio oppure la parola riprendetevi il vostro tempo in manco nel nascimento il suo a prima non si è riuscita alla fine a riuscita teniamo più in un momento che prendetevi il vostro tempo in mano e dedicatelo alle cose che vi piacciono di più dedicate con voi dedicate il tempo o il momento perché non c'è il momento un po' altra qui c'è il vostro tempo qui c'è il vostro tempo o il momento come ho detto dedicati il momento o il vostro momento è facile ripetizione della parola tempo fa quale o calo dedicati lo il vostro tempo e dedicatelo alle cose che vi piacciono di più il sacro l'asce che vi piacciono di più le cose piacciono voi la di tuaggibukum di più qui c'è il vostro tempo qui c'è il vostro tempo qui c'è il vostro tempo cocolatevi al massimo quindi che c'è il vostro tempo al aqsa 1 cocolatevi che c'è il vostro tempo cocolatevi la macchente indicativo di cocolate cocolatevi al massimo aqsa 1 aqsa 1 cocolatevi al massimo cocolatevi al massimo se passate il tempo con la famiglia o se passate il tempo con questi amici a quattro zampe grazie mille passiamo adesso a che cosa? alla grammatica vediamo questa è una preposizione articolata aqsa 1 aqsa 1 aqsa 1 o la asbahat nella d'accordo? in la vita non possiamo dire questo diciamo nella vita frenetica di tutti i giorni qui abbiamo una preposizione semplice d'accordo? lau ma a'nex hena klima tutti hai koon ex hat koon dei dei giorni ok? nella vita frenetica dei giorni di ei i ok? dei giorni ma hne hanno una preposizione semplice l'ex ma kenex articolata li a'nex klima tutti kona lau ta' la'na tutti sattakoon dei giorni l'il aie l'akene di kulli l'ayem ok? un'altra preposizione semplice fia del jomla di e di questa è una preposizione semplice quello che ci manca di più è proprio il tempo per noi stessi per è una preposizione semplice ok? se siete in casa il è una preposizione semplice con la famiglia o questa è una preposizione semplice più l'articolo fi preposizioni come in da o di in la tos bahnella in il tos bahnella ci sono delle preposizioni semplice che non si possono essere legati all'articolo fi il la l'articolo come la preposizione con la preposizione per diciamo così con la con il con il con il con la con l'hala con il con l'hala con l'hala continuiamo per vivere una preposizione semplice ma non è un articolo è già preposizione semplice e se siete da solo come a dire io ho giusto in grado da solo è giusto in grado da solo non è giusto in grado non è giusto in grado ma è giusto in grado è giusto in grado perché è giusto in grado la preposizione da noi siamo da soli non diciamo noi siamo soli dobbiamo dire noi siamo da soli non è preposizione semplice in mano preposizione semplice bravi alle cose preposizione articolata a più le la manvì a a le doppio l alle nella asla in più la le kufil giamma nemmas ma nemmas ma nemmas doppio l alle continuo qui abbiamo allora ancora una preposizione articolata al asla es a il asla a il massimo al e se avete degli amici su l l'helli preposizione articolata le 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 plurale dell'articolo un se avete un amico plurale di un deli l'italiano diciamo solo il libri deli amici è una preposizione articolata però in questo giusto non è un malo non è un articolo un plurale di un deli si avete un amico ok se avete un amico se avete un amico se avete un amico plurale di un deli e se avete un amico non è una preposizione articolata fate attenzione a quattro zampe a è una preposizione brava, semplice e ora che potete dedicarvi più tempo fatelo ne sarete felici entrambi perché ricordiamo le preposizioni ma ricordiamo il nostro per la prossima e per la prossima per la prossima Grazie mille, alla prossima.